Una volta eravamo in molti, adesso siamo in pochi. Iliani, un popolo di fratelli, votato all'onore e agli dèi. Tra di noi esiste una leggenda, quello destinato a diventare Sefer Tawla, la spada del popolo. I peschi bianchi ci hanno portato via tutto quello che avevamo. Le nostre case, le nostre famiglie, la nostra libertà. Ma dal dolore che attenagli ai nostri cuori, noi ci solleveremo. Insieme, uniti. Come vento impetuoso non ci fermeremo. Come martello vendicatore ci abbatteremo su di loro. Nessuna ritirata, nessuna resa. Da fratello a fratello, vostro nella vita e nella morte. E così salpammo in cerca di vendetta. Ci imbattemmo in terre selvagge. Affrontammo creature che andavano ben oltre la nostra comprensione. Finché il mare non ci chiudò alla volta di una nuova terra. Drena! Una nuova casa per il nostro popolo. Un nuovo fardello da sorreggere. Incontrammo degli alleati. Fronteggiamo eserciti. Assistemmo a complotti. Accrescemmo le nostre competenze. Piangemmo la perdita dei nostri fratelli. E alla fine, li sacrificammo per creare artefatti al di là dell'umana comprensione. E li usammo per sconfiggere i demoni che infestano questo mondo. Ma alla fine, che cosa ne abbiamo ottenuto davvero? Non sono ancora riuscito a trovare uno scopo da mia vita. Ma esiste un motto che il mio capitano mi insegnò tanto tempo fa. Ritirarsi. MAI! E li scoprò.